oggi mezzo speciale l'escavatore con sergio e papà ciao a tutti amici sergio dove lo stiamo portando questo escavatore a liberare il camion vai procediamo procediamo piano piano scendiamo qui e occhio siamo arrivati questo è quello che ho fatto io qua teniamo un camion che praticamente c'è stato un temporale ed è rimasto tutto quanto bloccato tutta la terra c'è stata una piccola frana c'è stata una piccola frana che l'ho fatta io e adesso lo dobbiamo liberare anche sopra il tetto anche sopra il tetto che disastro che disastro senza rompere però il camion papà non lo rompiamo sto cercandoli non va guarda che faccio guardate che non lo faccio sentite io faccio ora direi che farò così via è anche un pochino forte però eh si parecchio parecchio sono i re delle pietre e lancio pietre ma non sta prendendo le pietre ok qua e vabbè vabbè lasciale lasciale non fa niente dai andiamo forza metti in moto metti in moto anche l'escavatore portiamo anche l'escavatore senza telecomando non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio è un pochino vabbè fai che qui pure Grazie a tutti.